Il progetto presentato dal Comune di Biella per riqualificare l'asse viario pedonale centrale della città tramite il rifacimento della pavimentazione e il rinnovamento della rete di illuminazione è stato ammesso al finanziamento e riceverà un contributo di 1.200.000 euro da parte della Regione. Al Grattaciela Piemonte il Presidente della Regione Alberto Cirio ha incontrato il Sindaco di Biella Claudio Corradino per il contributo di 1,2 milioni di euro assegnato alla città. Puntiamo a ridare slancio a una zona storica della città, ha sottolineato il Sindaco Corradino e l'intervento prevede la riqualificazione della pavimentazione di Via Italia con la sostituzione dei cubetti di imporfido. Inoltre provvederemo anche alla sostituzione dell'illuminazione pubblica. In generale l'obiettivo dell'azione di riqualificazione è proprio valorizzare il contesto cittadino per il quale le pavimentazioni lapide rappresentano una forte connotazione ambientale, paesaggistica e storica. Grazie al lavoro di squadra portato avanti con il Governo, ha commentato il Presidente Cirio, mettiamo a disposizione questo importo importante a Biella, un importo che il Comune attendeva da tempo per poter sbloccare un intervento strategico nell'ambito della viabilità e della sicurezza. Un ulteriore intervento concreto che si aggiunge a già numerose azioni messe in atto fin dal primo giorno di mandato per consentire ad ogni singola amministrazione di dare risposte efficaci alle richieste dei cittadini.